Ma perché se non vuoi mangiare la carne cerchi di imitarne il sapore? Anche io dicevo la stessa identica frase prima di diventare vegetariana e capisco che per una persona che è lontanissima da questo mondo si crei molta perplessità e anche fastidio a riguardo Quindi oggi voglio provare a spiegartelo in modo semplice Io ho smesso di mangiare carne non perché non mi piacesse il sapore anzi, io amavo i nuggets ma perché non mi sta bene che ci sia il corpo di un animale nel mio piatto Siamo quasi tutti cresciuti con questi sapori quindi è normale che io li vada a ricercare anche perché mi ricordano momenti spensierati, momenti della mia infanzia in generale è un gusto che ancora so apprezzare Quindi perché non posso ricrearlo senza un animale? Ecco, il motivo è semplicemente questo Ah, e la ricetta la trovi giù in descrizione